Sono Raffaella Brambilla, fondatrice di Onik, un piccolo brand artigianale che si occupa di accessori e complimenti d'arredo realizzati in tessuto. Alla ricerca di tessuti di qualità sono approdata all'ecoprint, la stampa botanica. La stampa botanica fa sì che i pezzi siano solo pezzi unici, è impossibile averne due uguali. Per l'ecoprint è necessario utilizzare le piante tintorie, quindi non tutte le piante vanno bene, c'è una fase di ricerca e sperimentazione che è molto importante. L'ecoprint è stampa solo su tessuti naturali, quindi è un processo assolutamente eco-compatibile ed eco-sostenibile. Il progetto che vorrei sviluppare è una piccola linea di abbigliamento. Mi sono resa conto che le donne che fanno attenzione ad avere un abbigliamento eco-sostenibile sono tante. Il mio motto è Onique, Original e Unique, perché tutte siamo uniche e tutte meritiamo pezzi originali.